Amiche e amici di Rosseni TV, eccoci qua nel salotto di Fisioradi Medical Center, c'è capo Obiettivo Salute, terza stagione, questa sera graditissimo ospite di Rosseni TV è il dottor Ignazio Borghesi. Buonasera dottore. Buonasera, buonasera ai tre scattatori. Il dottore Ignazio Borghesi è un, fatecelo dire, un veterano di Fisioradi Medical Center, di Fisioradi se vogliamo andare all'origine del tutto, perché sono 15 anni, pensate, che collabora con Maurizio Radi e quindi ha davvero visto, è stato testimone della crescita di questa struttura. Ma se lei dovesse tornare 15 anni indietro, dottore, a parte che siamo convinti che ci metterebbe la firma come tutti noi, più o meno siamo tutti in queste condizioni, cosa le torna in mente di quella prima volta di 15 anni fa in cui si è trovato a collaborare con Maurizio Radi? Beh, io ricordo con grande piacere che la prima volta che ho iniziato a collaborare con Maurizio c'era la disponibilità nel suo centro di una piscina riscaldata per fare la fisioterapia e 15 anni fa non erano molti i centri che disponevano di questa possibilità. Io ho sempre spinto i pazienti a fare una riabilitazione in acqua calda, soprattutto nel post-operatorio, per migliorare le performance che già si potevano ottenere con la chirurgia. La maggior parte delle persone non ritiene a volte necessaria fare la fisioterapia né prima in previsione di un'operazione né dopo l'operazione per cercare di migliorare la propria condizione, ma è un'attività che è ormai stabilito a essere molto molto efficace. Non l'abbiamo detto prima, in sede di presentazione, il dottore Ignazzo Borghesi è medico-chirurgo specializzato in neurochirurgia, quindi questa pratica della medicina così difficile, cioè la persona, chiamiamola, che non conosce esattamente di cosa si tratta, sicuramente quando sente parlare di neurochirurgia si fa tante domande, dottore. Certo, immagino perché quando si parla di neurochirurgia si pensa a qualcosa che possa presupporre l'arrivo di un medico nello spazio, nel senso che noi siamo dedicati allo studio e alla cura di patologie del cervello, del midollo spinale e dei nervi periferici. E questo porta sicuramente a uno studio continuo, continuativo, perché dobbiamo essere aggiornati per ricercare le migliori terapie, i migliori materiali per la cura dei tumori del cervello, per la cura delle fratture vertebrali, per la cura degli spostamenti di una vertebra sull'altra come nella spondiolistesi, per la cura anche solo banalmente dell'ernia del disco di cui la maggior parte delle persone è coinvolta e lamenta dei dolori nelle gambe, cosiddetta sciatalgia, che a volte impedisce proprio le quotidiane attività, come andare a lavorare oppure anche solo riposare. E quindi ovviamente trattandosi di una branca della medicina così specializzata, così specialistica, così difficile, entra in gioco un concetto che abbiamo già affrontato, quello della chirurgia mini-invasiva. Quindi quando si tratta di chirurgia mini-invasiva, nella questione che riguarda la neurochirurgia, si può dire che diventa ancora più approfondita, ancora più dettagliata questa modalità di fare chirurgia. Sì, per chirurgia mini-invasiva si intende un apporto al corpo umano con dei piccoli tagli, con delle procedure che permettono di arrivare con la minore invasività possibile all'interno di un cervello, per esempio con un endoscopio, oppure a livello del racchide, prevalentemente a livello lombare, con dei piccoli tagli che possono essere a livello addominale oppure sul fianco e raggiungere quindi il tratto lombare, lo spazio discale per permettere la sostituzione di un disco intervertebrale, magari con l'utilizzo anche di un endoscopio, per cui attraverso un piccolo taglio, anche solo di pochi centimetri, 5-6 centimetri, si riesce a posizionare un disco artificiale oppure si possono inserire delle viti nei corpi vertebrali per bloccarne un eventuale spostamento che dovesse essere stato valutato con la risonanza magnetica o con un'attacca. E questo permette un dispendio di sangue intraoperatorio veramente minimo, i tessuti sono poco traumatizzati e questo facilita nel post-operatorio una ripresa piuttosto veloce con scarso dolore e con la possibilità di essere indirizzati alla fisioterapia anche velocemente e proprio favorita dalla guarigione precoce delle ferite. L'ha accennato prima proprio mentre ci descriveva questa microchirurgia, dovessimo parlare proprio del racchide lombare, in cosa si va a incidere con la chirurgia meno invasiva? Beh, con la chirurgia meno invasiva noi abbiamo la possibilità per esempio attraverso un taglio a livello addominale, in genere sotto l'ombilicolo, anche di pochi centimetri, riusciamo ad arrivare sul spazio discale e togliere un'ernia discale che avesse favorito un scivolamento vertebrale oppure una degenerazione completa del disco che va rimosso perché questa degenerazione comporta un mal di schiena che per molti pazienti non è più tollerabile. Nonostante le terapie fisioterapiche o la terapia del dolore mediante ozonoterapia o infiltrazioni periodurali, i pazienti non sono più in grado di condurre una vita serena. Talvolta il dolore alla schiena può portare a una depressione che deve essere prima curata e poi trattata dal punto di vista organico. E con queste tecniche si riesce a dare ai pazienti una possibilità di recupero piuttosto veloce che è quello che poi richiedono cicatrici molto piccole, bassi rischi intraoperatori e una ripresa dell'attività lavorativa piuttosto veloce. Oppure con un taglio nel fianco si riesce a inserire degli spaziatori tra i corpi vertebrali spesso sono in titanio che è un materiale inerte che favorisce la fusione tra un corpo vertebrale e l'altro e ci permette questa tecnica di eseguire delle correzioni in alcune deformità e in alcune scoliosi degenerative con dei tagli veramente minimali e in un paziente anziano magari di 70 anni la ripresa è sicuramente veloce perché conosciamo che la muscolatura di questi pazienti è modesta e quindi dobbiamo evitare di traumatizzare questa muscolatura il più a lungo possibile. Oltretutto lei nella sua esperienza ha avuto modo proprio di vedere come è cambiata, come è cambiato l'approccio della neurochirurgia. Quindi rispetto a 15-20 anni fa siamo davvero in un altro mondo. Sì, in 20 anni sono cambiate tante cose, sono cambiate le tecniche chirurgiche, le tecniche mini invasive sia a livello cranico che a livello dorso-lombare sono migliorate soprattutto negli ultimi dieci anni. Sono avanzate le tecnologie dei materiali, i materiali favoriscono molto più velocemente la fusione di un osso. Si riferisce alle protesi soprattutto. Questo tendenzialmente alle protesi discali ma anche alle viti, ma anche ultimamente con l'utilizzo del robot abbiamo la possibilità di avere una precisione superiore, soprattutto nei giovani chirurghi che devono crescere, hanno a disposizione uno strumento che facilita la riduzione dell'errore, non dico a zero, ma all'1%. Quindi tutte queste tecnologie ci permettono di affrontare le malattie dei pazienti che in passato non era possibile fare. Oggi si possono trattare con delle chirurgie poco invasive per favorire poi l'ingresso dei pazienti in un percorso riabilitativo. Io devo essere molto grato anche a Fisioradio perché ha creato una struttura che da dove eravamo partiti una volta si è ampliata in modo enorme, creando un percorso di fisioterapisti adeguati che stanno all'interno della piscina li aiuta a fare questo percorso. C'è la possibilità di fare in tempo reale una risonanza magnetica ad alto campo, un'attacca, una radiografia qualora ce ne fosse bisogno anche durante la visita ambulatoriale. C'è la possibilità di avere il riscontro di altri specialisti qualora si dovesse pensare a una patologia della spalla piuttosto che a un problema cervicale o a un problema dell'anca piuttosto che a un problema lombare. Sì, certamente infatti è il grande punto di forza di questa struttura la poliedricità delle specializzazioni che si possono trovare ed effettivamente il paziente viene preso in cura dalla A alla Z nella sua interezza. Dottore, ma ogni volta che lei si prepara a entrare nella sala operatoria per poi operare, qual è il suo stato d'animo? Io me lo chiedo perché è una responsabilità grandissima nel momento in cui lei opera, proprio nel vero senso della parola. Qual è il suo stato d'animo? Nel corso degli anni viene una specie di abitudine oppure no? No, non c'è una specie di abitudine. C'è la capacità di affrontare eventualmente delle ansie che possono esserci. Gli interventi sono sempre preparati mentalmente giorni prima o settimane prima. Quindi nei pazienti più complessi la preparazione è proprio veramente di settimane prima. Quindi si cerca di organizzare uno schema mentale per cercare di mettere in sicurezza ogni gesto che si produce in sala operatoria. A me piace il silenzio in sala operatoria, non mi piace la musica che vedo magari ogni tanto reclamata in alcuni film, mi piace la serietà di affrontare la problematica del malato, perché il malato si affida alla mia competenza e alla mia coscienza. E quindi ho il massimo rispetto di chi in quel momento è completamente inerme, è sotto anestesia, non può più nulla e si affida ciecamente alle mie capacità. E in quel momento io cerco di dare al paziente il massimo delle mie competenze e quella che è la mia responsabilità nei confronti della loro vita. Pensate quindi che grandissimo concetto, no? Quando noi effettivamente ci affidiamo alle mani di un medico che poi fa quello che fa per migliorare la nostra condizione esistenziale o addirittura salvarci la vita. Davvero è una questione che fa venire i brividi, le dico proprio da un punto di vista fisico. E poi appunto, l'ha accennato anche prima, il percorso post-operatorio. Il percorso post-operatorio va studiato molto bene, perché non è che si esce dalla sala operatoria e tutto è finito, anzi il più delle volte comincia da lì. Assolutamente, noi abbiamo messo in atto un percorso già durante il reparto. Cioè nel nostro reparto il fisioterapista prende in carico il paziente, il giorno stesso, il giorno dopo l'intervento, il paziente. E lo aiuta già ad alzarsi, lo aiuta ad alzarsi dal letto, spiega ai pazienti come fare per alzarsi dal letto in sicurezza, come eseguire i movimenti degli arti superiori o del tronco o delle gambe, per poi essere indirizzato successivamente a un percorso riabilitativo prevalentemente vicino a casa, perché ci deve essere anche la comodità dei familiari di accompagnare il paziente nelle strutture riabilitative. E quindi per i pazienti, per esempio, del nord delle Marche, di Pesaro, io indirizzo tutti i miei pazienti da fisioradi proprio perché c'è una possibilità riabilitativa che non ha uguali in tante parti dell'Emilia Romagna o delle Marche stesse. Certo, infatti non l'abbiamo detto anche questa, è una cosa che non avevamo detto fino ad ora. Il dottore Ignasto Borghesi considerate che è responsabile della neurochirurgia di Cotignola, quindi chiaramente sono tanti i nostri concittadini, i nostri co-regionali, che si rivolgono a questa struttura d'eccellenza che è posizionata in Emilia Romagna tra Ravenna e Lugo. Quindi è davvero una... è molto affascinante, dottore, quello che lei ci ha raccontato, perché se io penso a questa pratica così difficile, così importante per noi, per noi intendo noi in senso lato, pazienti è davvero molto molto affascinante. E allo stesso tempo appunto, grazie anche a lei, ci fa rendere conto che in realtà il medico è un essere umano, come tutti quanti, che in quella situazione però mette in campo le sue conoscenze per fare ciò che deve fare. Assolutamente. Una cosa che io stresso molto è che mi chiedono per esempio cosa farebbe se di là della scrivania ci fosse un mio familiare. Io dico sempre che dico ai malati quello che in quel momento farei a me stesso, cioè se io fossi dall'altra parte della scrivania mi piacerebbe sentirmi dire quello che io gli sto raccontando loro. Mi piace spiegare bene qual è il problema per renderli consapevoli di quello che andremo a fare. Se il malato è consapevole di quello che ha e di quello che può dare loro la fisioterapia o la chirurgia, ecco io ho già fatto un'opera meritoria perché il paziente è più invogliato poi a seguire una strada piuttosto che l'altra consapevole dei rischi magari di una chirurgia e di vantaggi di una fisioterapia che deve essere prima di tutto tentata. Certo e poi appunto c'è questo rapporto di fiducia che si crea nel momento in cui ci si mette nelle mani di un professionista come lei. Dottore grazie, è stato davvero illuminante anche questa sera. Grazie a voi, grazie. Grazie davvero per averci seguito, grazie al dottor Borghesi per quello che ci ha detto. Appuntamento a lunedì prossimo, check up obiettivo salute da Fisionadi Medical Center. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.